Vabbè, come potete vedere, sì, si poteva fare. È vero lo stanno venerando? Hanno fatto probabilmente sacrifici al secchio? Stanley, dove stiamo andando? Questa ulteriore conferma che ti stanno chiaramente prendendo per il culo, eh? Se te lo stessi domandando. The Stanley Parable 3, il formaggio terrificante! Miei carissimi amici, nonché feticisti del secchio, è con grande ramarico che vi annuncio che questo purtroppo sarà l'ultimo episodio di The Stanley Parable Ultra Deluxe che, sarò onesto con voi, è durato molto più di quanto mi sarei immaginato. Inoltre, sul finale dello scorso episodio, qualcuno ha notato che abbiamo attivato l'epilogo trovando tutte le statuine, che ci crediate o no, alla fine, nonostante lui avesse detto no, non ti do nulla se trovi tutte le statuine. Eccolo qua, abbiamo l'epilogo, quindi tranquilli che ce lo vediamo. Prima di iniziare con questo episodio, ah, per inciso, siamo anche per tornare sullo Stanley Parable quello di nove anni fa, perché c'erano un paio di differenze e alcuni segreti che non ho mai scoperto. Ma, dicevo, prima di iniziare con questo episodio, vi metto uno spezzone di video registrato ancora per l'altra puntata, solo che l'ho tagliato, dato che sennò il video diventava troppo lungo, quindi ve lo faccio vedere adesso e noi ci rivediamo fra qualche minuto. Oh mio Dio, è sparito ogni riferimento alle statuine, guardate che roba! La stanza è tornata completamente normale! Il gioco vuole che io dimentichi? No, non voglio dimenticare! Allora, sto ritornando al centro lì, stazione come Caccocchi si chiamava, per il controllo mentale, perché mi avete detto che c'è un finale extra che hanno aggiunto nella Ultra Deluxe. Già, e mi avete detto nei commenti che si può precipitare sul fondo della suddetta struttura. Uh, Wastan non me l'aspettavo. Oh, 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 oh! La ciclone nella vita, weee! Vabbè, ma invago! Com'è possibile che io sia ancora vivo? Ah, ecco, perfetto! Mi fa vero un'uscita? La famiglia in the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here, a bit cold perhaps. After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for when the bucket was craving pennella. Mmm, toast, io due toast li vorrei adesso. But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. In fact, after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility. E' proprio sopra di noi, eh, non è che devo passaggi più di tanto. No, Stanley, no, non farlo. Oh no. Oh no, sta degenerando. Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake, it was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. Non ce n'è uno a questo problema. It was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was inconsolable. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. The bucket sighed. True. It wasn't an ending. Giusto, bravo, ottima risposta. If we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was coming. Ma, e invece cos'è successo? Two of them waited for a very long time. È arrivato il finale? Ah, no, non lo sapremo mai. Perché, perché mi devi creare una storia e poi non mi dici il relativo finale? Ma allora lo vedi che sei fetente? Ottimo, eccoci ritornati. Fidatevi che c'è un'altra variante, presumo, di quel suddetto finale. Che un tempo era un bug nel Stanley Parable originale. Potevi volare di sotto. Ma era un errore di programmazione, sebbene ricordo. Ah, il mio piccolo secchio. Come stai? Tutto bene? Tranquillo che fra pochi minuti torno a riprenderti. C'è un easter egg che era già presente nove anni fa. Che non conoscevo. Nei commenti mi avete detto di chiudere questa porta. Si può fare veramente? Oh mio Dio! Non sapevo si potesse chiudere. E poi, di chiudere anche l'altra. Vediamo un po' se ce la facciamo. Devo rimanere dentro la stanza? A posto? Eh, la stanno mettendo a posto però. Eh, addirittura. Stanley era una persona con problemi, eh? Quella scala mi piace. Chissà perché io mi immagino Stanley come una persona che in realtà non prova emozioni. Ha la stessa identica espressione per tutto il tempo. Sia che abbia vinto la lotteria, oppure che gli abbiano amputato un piede. Ehm... A posto? Posso ritornare indietro? Ah, no. Apparentemente non. Ma no! In realtà stavo bene! Aspetta un attimo. Se riavviamo la partita da capo, in teoria. Ah, inoltre ho dato un'occhiata in giro e sembra che effettivamente non ci sia un finale, quello da codardi quando ti rinchiudi nel tuo ufficio. Una variante nel caso tu abbia il secchio. In realtà è un errore di programmazione perché puoi rientrare nell'ufficio solo in uno specifico frangente. Lo scorso episodio sono stato sculato. Era quello specifico frangente. Allora, tentativo numero due. No, è troppo divertente trovare tutti gli easter egg di sto coppio di gioco della serie. Chi mai ci avrebbe pensato ste cose? Vediamo un po'. E' meglio essere in due. E in effetti non hai tutti i torti. No, due idioti direi. Tutto qua. Questa volta non resto ad ammirare la stanza, ma in realtà mi sono rifugiato. Perché poi non è un rifugio, è un corridoio. Chiunque potrebbe passare da un momento a quell'altro. Non è segreto? No, appena non. E dai, non si offenda. Secchio, ti porto con me o non ti porto con me? Allora, per adesso riavviamo di nuovo. E mi sono appena ricordato che dobbiamo ancora vedere il finale dell'ascensore con il secchio. Ce lo portiamo via al prossimo giro, tranquilli. Come detto, ci sarà ancora un bel po' di easter egg. E ci vorrà una vita perché devo andare avanti indietro 80 milioni di volte. Ci metterò ora a registrare questo video. Allora, voglio provare a vedere se riesco a sbloccare ben due easter egg. Anzi, un easter egg è un finale segreto. Da quello che ho capito, in teoria, posso rispegnere gli schermi, quelli che stiamo per accendere, più avanti. E ci dovrebbe essere un easter egg. Non so quand'è che lo potrò rifare, eh, per inciso. Ok, ho riacceso tutti gli schermi. Ah, non mi lascio tornare indietro, però. Oh, non mi dire che è un finale segreto che esisteva solo nella vecchia versione. No, ci dovrò riprovare. No, non mi dite che adesso devo ritornare indietro manualmente. Ma che gigantesca rottura di maroni. Non pensavo che ti bloccasse il passaggio. No, Tioco, ti odio nel profondo. Oh, grazie. Una volta tanto mi ha semplificato la vita, buon uomo. Ma... Non me l'aspettavo, ci sei rimasta come un pirla. Pensavo di... Tanto la strada me la devo rifare tutta da capo, ma questa volta avrei aspettato, perché se metti i codici troppo presto, si mette a farti ascoltare la musica New Age. Cioè, ok, grazie, grazie, molto gentilo da parte sua. Dobbiamo anche fuggire in quella direzione, tra poco lo facciamo, allora. Per adesso mi butto semplicemente di sotto. L'ultima volta, come ho detto, abbiamo avuto il secchio in mano. Questa volta cosa accadrà? Non so neanche... Devo per forza... Beh, io ho accetto, accendo. Oh, lei! Tanti saluti, narratore! Ah, se ne è accorto finalmente, eh! La sa, la sa, conosco la lore di questo gioco. Wow, le grandi soddisfazioni del videogiocatore moderno. In effetti c'ha ragione, eh! Ehm, che evento epocale! Grazie, signor narratore, sono proprio con il senso! Titolo un po' lunghetto per la canzone, eh! Questa ulteriore conferma che ti stanno chiaramente prendendo per il culo, eh! Se te lo stessi domandando. Ma è vero, quando noi scopriamo qualcosa, un bug o altro, facciamo tutti i gradassi, i furbacchioni, ci sentiamo superiori, senza capire che uno sviluppo di un gioco è un processo molto complesso e non puoi mai, e poi mai, cioè non esiste che il gioco è privo di bug o altro, quindi prima o poi riesci a trovare un modo per uscire e andare al di là delle barriere comuni. Le ringhiere! Hanno fatto un'intera canzone, gente! Cosa volete di più della vita? Ci tengono proprio a noi! Ho capito, ho capito! La possiamo concludere qua? Mi sono già noto le scatole, avrei altri finali da scoprire, la serata è ancora lunga. Grazie, mi hanno riavviato, ogni tanto mi sentono. Oh mio Dio, il narratore mi sta sentendo per davvero? Se mi sente faccio una scoreggia? No, magari è meglio di no, non incitiamolo a emettere flatulenze. Secchio, Secchio, c'è bisogno di te, vallaccio, 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 potala, potala. C'è quanti diversi dialoghi hanno messo ogni volta che Stanley prende sto cocchio di Secchio. Allora, ci aspetta un ascensore! Oh, aspetti qualche secondo e cambia l'idea, molto in fretta. Ok, usciamo e rientriamo e voilà! Ok, non hai detto ancora nulla. No, il Secchio non parla, punto! Non è che dovrebbe dire qualcosa? Non nutriamo aspettative nei suoi confronti? Oh no, cosa si sono inventati stavolta? In realtà il numero 3 neanche lo devi premere. Perché è 2845 il codice, l'ho fatto talmente tante volte. Devo farlo per davvero? 3, 3, 3, 3, 3. Non ha funzionato però. Tutto qui? A posto? Volete che lo pre... Tuttavia Stanley si era poco appassionato a quel numero 3, quindi torno indietro per premerlo un altro po'. Tanto che c'era, voglio dire, minuto più minuto meno. Ah, bastardo! Non aveva nient'altro da dire. Sembra che fra Stanley e il Secchio ci sia qualche problema. Mi sa che la loro relazione si sta sgretolando. Ok, eccoci ritornati lì sotto. Ciccio, ma allora vedi che te le vai a cercare. Un tempo mi dicevi no, 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 basta, basta. E adesso mi dici, ma perché non torni su di nuovo? No, 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 said Stanley to the bucket. You can't go on yet. Not that you understand how much the number 3 means to me. You and I have been through so much together and I just want you to see what I see. Feel the happiness I feel. He smiled at the bucket. And the bucket said nothing. La cosa strana è che normalmente è il secchio che parla in continuazione E Stanley sta zitto Una volta tanto che Stanley ritorna ad essere il protagonista Lo fa per futili motivi Stanley avanti dai Guardando verso il basso tutto triste triste Cecchio e dai Dagli un po' di soddisfazione Aia Aia ci sono grossi problemi Qualcuno trovi uno psicologo Santo cielo dobbiamo salvare la relazione fra Stanley e il secchio Prima che c'è troppo tardi Mi pare una gran boiata Stanley non far follia Eh c'era qualcuno là sotto l'avete visto? C'era qualcuno l'ho visto Ritornate indietro Per tanti in questa linea narrativa non sono io la vittima ma sono quello che ha organizzato tutta sta gran boiata Stanley Dovresti aver imparato ormai Oh mio dio Sì c'è il numero 3 da tutte le parti Oh mio dio Eeeh Ha scritto un libro differente rispetto al solito Stanley Stanley Si è andato un po' fuori di testa con la numerologia Facciamo finta di nulla che è meglio Vediamo un po' se Qui ancora una volta collassa o succede altro Questo finale davvero non me lo sarei mai poi mai aspettato Ah ecco mi sembrava strano Giustamente ho scritto 3 Ma no ma che storia triste Amici con beneficio aggiungerei è E ma che storia veramente tanto triste santo cielo Ma no Almeno l'ultima volta gli è venuto un Ictus Era pieno del po' di fighe Di gente voglio dire Signori bentornati nel 2013 Stai giocando al The Stanley Parable originale Qui potete vedere che sono riuscito a riattivare la console del gioco Ai tempi d'oro Se volevi accedere ai comandi della console Vi dicendo cheat e tutte cose Dovevi scrivere Sv underscore cheats1 Solo che su The Stanley Parable Se provavi a farlo Beh diciamo che non gradivano più di tanto eh Wow è molto serio in effetti E' anche abbastanza sporco eh però Nooo giuro Nooo giuro Eravamo fuori in un altro paio di maniche in effetti Ma che rottura di maroni Che faccio nel fattempo? Eh vabbè Esagerato Avanti mi apre la porta Parliamone Io ho i trucchi Quindi cosa vuoi di più della vita? Sv ciz Uno Parte seconda Un marone C'è una seconda parte? Sì 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 tantissimi Un milione di miliardi di milioni E se non ha niente di meglio da fare con la sua vita Non è colpa mia Eh sì è molto seria Giustamente Meglio averli tutt'ora in una stanza specifica Nooo gli infiniti no Ma che due maroni Sarei tentato di provare però Se mi sfida così A sto punto gente non c'è due Senza tre Mi hanno punito verso l'infinito e oltre Ah va tranquillo Ci sono problemi Nella stanza degli appunti C'ha un'intera stanza Eh Vabbè Ma io adesso qui Eh narratore A sto punto Intanto che scegli il tavolo Io me ne andrei Narratore Oh porco Cane mi sa che stavolta L'ho fatta grossa gente Ah per inciso Se continuo a scrivere Sv cheats Uno Non serve a nulla Ormai sono bloccato qua dentro E il bello è che non posso attivare i cheat Fintanto che non ho messo Sv cheats Su uno Perché rimane su zero Altrimenti Nooo Nooo Dov'è il secchio Porco cane Nove anni fa Non avevo ancora inventato il secchio Ma che tristitudine Di proporzioni bibliche Allora Cerchiamo di Ritornare Nella stanza Quella delle Degli schermi Perché voglio Voglio provare Almeno qua A far vedere Quella Quell'easter egg Ma c'era il bagno Al tempo Datemi un secondo E vedi che la porta Non si poteva aprire Avevo ragione io Come quest'altra porta Quella degli ascensori Era chiusa Oh Non sono completamente Rimbecillito Perfetto Eccoci in fondo All'ascensore Ok E se io provo A tornare dentro E vedete che non funzionava Non ero scemo Ok Alcune cose Me le ricordavo Per inciso Non proverò a buggarmi Perché qua non c'è il finale E un po' Ma non fa Sì Si poteva fare Dicevo Se scendo di sotto qua Rimango bloccato come un pirla E basta Quindi evitiamo di farlo Era la sedia La chiave Per fare sto trucchetto Ok Le porte si sono aperte Ma se si richiudono Io sono fregato Ma magari non ci sia Un trucchetto Perché mi ricordo Che c'era un easter egg E un po' E poi si chiudono E vedi che non c'è modo Di tornare indietro allora Oh Oh Non so come si è riaperto Si è riaperto all'improvviso Ero qua che stavo cercando Di capire come fare E probabilmente Dovevo solo aspettare Sì vabbè Chi ci sarebbe mai arrivato Che dovevo aspettare Quindi ora posso tornare qui E spegnere tu No Forse lo potevo fare anche nel Vabbè Ehm Come potete vedere Sì Si poteva fare Guarda Facciamo anche questo Tanto che ci siamo Aspetta Aspetta E' difficile Stai lì Stai lì Copera come il ragazzo mio Copera Dobbiamo farlo Era il 2013 Si poteva fa Adesso non lo posso più fare Aha Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Aspetta Aspetta Ci sono quasi Ancora un attimo Aspetta provo ad abbassarmi Come cosa ci sono fatta Prima il primo colpo Vedete che si poteva fare Weee Ehm Però non c'era niente Ok Direi che ci siamo traumatizzati Abbastanza Uuu Con quanti colori Non me lo dici peraltro Sono come i bambini fighi Che l'hanno scoperto Nel passato Perfetto Eccoci ritornati Nella ultra deluxe Allora Ah mi ha già lasciato La porta aperta Stavolta Ma no Ma perché mi deve trattare Con sufficienza Oh Devo dire che le hanno pensate Praticamente tutte Sesto cielo E' bello ritornare nel gioco Con le text Un po' più faighe Certo alcune potevano essere migliorate Però gente Non voleva essere critico No Vediamo un po' Cosa ci attendere A questa parte Questa è una notizia Che mi preoccupa un sacco Probabilmente ha mentito Perché non vuole Che andiamo avanti Ma Stanley Non era un nome Molto fulvo Oh mio dio La luce è rossa E molto inquietante Sappiamo bene Che quando Non seguiamo La strada Lui ce la fa pagare Però c'è C'è un bar a trovi È abbastanza ovvio Che precipiterò male male Oh marone Dove siamo finiti Nel frattempo Che succede Oh mio dio Che sta succedendo Oh 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 no 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 Qualcuno la fermi Non posso uscire Perché abbiamo una macchina Del genere in ufficio Scusate No 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 Fermalo Scendi qualche modo No 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 Ah Ah Eh Buongiorno Ah Narattore è tutto bene Eh Magari anche no eh Possiamo evitare Insomma Wow Dove Dove sono finito C'era C'era un percorso qua sotto Ok Chi era peraltro La signora Bella domanda In effetti Uidala Signora si faccia le morti sue Santo cielo Le due porte No vabbè Vorrei vedere effettivamente La mappa di tutto L'edificio Però se qui c'è l'ufficio di Stanley Oh mio dio Fa strano vedere tutto in miniatura Però è così che dovrebbe essere Avete visto che di tanto in tanto Questa intera sezione di corrido E cambia completamente Gli schedari I computer dell'ufficio Oh posso anche interagire No L'ho spento Qualcuno qua che giocava a solitario di Windows Si sono anche messi i titoli di coda Ehm Prendiamoci avanti Dalla serie si sa mai Che vedremo l'epilogo Il suono dei pulsanti Ok Non clicco più Non clicco più Siamo in una sorta di gigantesco museo Ma che roba La sala della manutenzione Le scritte dei cubicoli No davvero Questo gioco fu una genialata gente Al tempo Qualcosa di assurdo Quante Quante esibizioni ci sono Mail al narratore Oh mio dio Per davvero Quindi praticamente Dopo che uscì il secondo trailer Nel 2011 Forse addirittura Un paio di anni prima Perché la Versione originale Di The Stanley Parable Fu una mod Per Half Life 2 E pertanto la gente Cominciò a mandare le mail Al narratore Oh maronne Guarda la roba Oh porco cane Diverse versioni Dell'ufficio di Stanley Molto probabilmente Però si ribadisco La Ultra Deluxe Era esattamente ciò Di cui avevo bisogno A così tanti anni Di distanza Potrei Ehm Fare questo gioco All'infinito E che ormai Ci stiamo avvicinando Alla fine L'ascensore Che porta verso La parte superiore Ho sentito Bippete Ah la schionia Della sala countdown Ok Non ho mai visto Effettivamente La demo Del Del gioco originale Io giocai A Stanley Parable Quando Poco dopo aver aperto Il canale nel 2015 Mi pare L'autunno successivo L'estate Adesso Non mi ricordo È passato veramente Un sacco di tempo C'è tutto il museo Quanto è grosso Tuttavia sono curioso Di tornare qua Quando avremo Il secchio Sarà probabilmente Un museo Dedicato al secchio Vediamo un po' Siamo alla fine Narrazione Scene tagliate Spavento Quindi hanno registrato Una marea di scene Tagliate extra In caso di necessità Meglio abbondare Della serie Si sa mai Oh Perfetto Forse ho trovato L'uscita Beh in effetti Questo è vero Beh si Stanley Dipende dal narratore Il narratore Non ha nulla da fare Se non torturare Stanley Ah signora No signora No signora c'è l'epilogo C'è ancora una speranza Fermi tutto Posso ancora avere un futu A quanto pare no A quanto pare decisamente no E alla fine Abbiamo conosciuto La moglie del narratore Se poi si copre Che è la sorella O altro E tutta una famiglia Di narratori È un casino Praticamente Sì è l'ufficio giusto Non mi faccia venire Dubbi per favori Anche lui Comincia ad avere Qualche problema A santo cielo Tutte le volte Che abbiamo riavviato La partita Si sta confondendo Profondamente Ah anche il secchio Bastardo Il secchio non lo salvi Non fai neanche più preferenze Vergognati Io mi domando Il doppiatore Quando la prima volta È stato contattato Per doppiare un gioco Del genere E ha letto il dialogo Io vorrei vedere Cosa cocchio Ha pensato il tizio Perché Doveva essere qualcosa Di completamente fuori Di testa Sì in effetti Secchio aiutami Ti prego Che peraltro È scomodo Voglio dire Pesante Goffo Addio Signora narratrice Mi salvi Presto Tanto mi farà morire Comunque la bastarda Anche la signora È stata ricontattata Per parlare di un secchio Io sarei profondamente confuso Forza 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 Mi liberi avanti Ora che lo so Ok È la stessa zona di prima Per adesso Stanley Parable È cambiato tutto il museo Il secchio Benvenuti alla grande esposizione Oh mio Dio Non ci credo L'hanno fatto per davvero Beh sarà qualcosa Di molto più piccolo Dovete smettere la costossessione per i secchi 25 secchi 25 secchi Fotografia di 25 secchi Il numero più grande di secchi Mai catturati in un'unica immagine Il fotografo rimase in shock catatonico Per diverse settimane Come conseguenza dell'euforia Da esposizione a così tanti secchi Tutti in una volta Io la butto la Ma secondo me sono un po' più di 25 No vabbè pure Gli studi di Da Vinci Un secchio con due Due manici Questo secchio era figurato con due manici Tale modifica non è mai stata portata Nella realtà Essendo stata giudicata Troppo pericolosa E sconsideratamente sperimentale Ogni anno decine di persone Vengono condannate a morte Solo per aver tentato di realizzarla Sicuramente Vabbè Non mi esprimo Non mi esprimo Perché sennò vengo ostracizzato dalla comunità Il secchio inferno Ma cos'è? Solo perché c'ha un pochettino di spark Una riproduzione del secchio inferno Che in epoca medievale Fu così potentemente attraente Che portò decine di nazioni in guerra L'una contro l'altra Per ottenerne il controllo Perirono i miliardi E tuttavia Questo semplice fatto rimane inconfutabile Nessuno può controllare un secchio Sì vabbè ma datevi una calmata Oh marone C'era già nella preistoria Questa esposizione è molto più grande del previsto Cioè come hanno fatto a realizzarlo nella preistoria E chi è quel tizio laggiù Una pittura rupestre Sappiamo che l'esistenza dei secchi Precede quella dell'essere umano Ma non sappiamo di quanto Questo graffito mostra la prima scoperta Da parte dell'uomo Degli usi pratici del secchio Quando la storia del secchio era già iniziata Probabilmente da diversi millenni Ben prima di quella umana Si sa ovviamente eh Si noti come il secchio permetta di essere usato Dopo aver giudicato l'umanità meritevole Dei suoi tesori Ah È vero lo stanno venerando Hanno fatto probabilmente sacrifici al secchio Oh mio dio Vediamo cos'altro hanno No mamma Il secchio appeso Questo pezzo simbolizza la relazione indispensabile Tra il secchio e l'umanità Maronne mi sono accecato Per quanto chiaro Sia ciò che sappiamo del secchio Molto rimane ancora al di là della nostra portata Questa distanza naturalmente E per il nostro Beeeene Aspetta un secondo Non vorrei aver saltato una parte dell'esposizione Ahah Lo dicevo io che mancava qualcosa Il secchio antistress Presentato senza commento Ah Ok Quindi il secchio praticamente raccoglie Tutto ciò che è negativo E rilascia praticamente gioia Tranquillità E relax Non so dove sia la scienza dietro a tali affermazioni No abbiamo visto tutto Dobbiamo ritornare al secchio appeso quindi Oh signori Ridendo e scherzando Ci siamo fatti una cultura sui secchi Che è qualcosa di assurdo eh Mai un gioco ha dato così tanto spazio Ad Un Secchio Mi farei precipitare quando tocco il secchio Vero? Oh Ah no Non sono precipitato Yeeey Ma lo dovevo toccare il secchio Non è che si incocchiano Vero? Ma c'è qualcosa che possiamo fare C'è qualcosa che possiamo fare Siamo Tu e io Che faranno Questo terribile Vero Ah ecco Perfetto Mi uccidono di nuovo Ma signora Ma la smette di dare brutti consigli No il secchio si sacrifica con me Un secchio rimane fedele al suo padrone fino alla fine O uno Stanley rimane fedele al suo secchio padrone fino alla fine Una delle due non ho mai capito la relazione schiavo padrone per quanto riguarda il secchio e Stanley eh È una cosa che la scienza non riesce a spiegarsi Direi che giunto il momento di ritornare al menu principale E vederci l'epilogo Vediamo cosa boia succederà Mi domando da dove riprenda peraltro Molti Molti anni dopo Dopo cosa? Dopo quale degli 8 miliardi di finali scusi? Oh maronne Ok Quindi Era canonico quello che abbiamo visto? Era normale che il narratore Venisse schippato all'infinito? Con quali musiche serie peraltro? Non mi aspettavo una cosa del genere Quindi Stanley è riuscito a sopravvivere ben oltre la vita del narratore E che mi un po' mi spiace per lui Ok ogni tanto era un pezzo di erba di proporzioni bibliche Soprattutto lui era il narratore Della prima versione del gioco Quanti miliardi di anni nel futuro siamo gente? È qualcosa di assurdo Ha trovato una sedia d'ufficio però Nonostante tutto Hai capito Stanley? Come è riuscito a organizzarsi? Però ancora non ha imparato a saltare Stanley avanti Non è poi così difficile Che poi domanda da milioni di dollari Stanley Dove stiamo andando? Maronne! Post apocalittico proprio Mi piace che è pieno zeppo di sedi d'ufficio? Quante sedi avrà creato il narratore In tutte le sue Narrazioni In tutte le sue vicende In tutte le boiate che si è inventato Mi domanda se il narratore Avesse un libero arbitrio O era costretto a narrare O se potesse creare liberamente Le varie storie Questa è una cosa abbastanza Interessante dal mio punto di vista Nel frattempo La luna è completamente piena Quindi vuol dire che sono passate Una settimana? Eh beh sì In teoria se prima era a metà Dovrebbe essere passata una settimana Un marone Ok sta sorgendo di nuovo il sole Stanley Ma porco cane quanto è lungo sto deserto Ciccio Ma vabbè perché tanto Stanley Non ci vedo manco i piedi Porco cane Continuiamo ad andare in direzione del sole? Vediamo un po' Oh mio dio Oh mio dio Abbiamo ritrovato il colonnato? Non ci credo mai nella vita Ci stiamo quindi avvicinando Alla Alla casa del Del narratore Aspetta un secondo C'è qualcosa laggiù Che buia è? Non mi dire che ho trovato Un easter egg Nel bel mezzo del deserto Anche ben lontano Dalla casetta dei ricordi Del narratore Cosa cocchio ho trovato? No Signori È il razzo È il finale del razzo Quello che abbiamo visto Nel scorso episodio Quindi è questo Il secchio originale È sopravvissuto Incredibile ma vero Non ha neanche un pelo di ruggine Il manico in legno Ancora in condizioni perfette Le etichette non si sono nemmeno rovinate Cosa vuoi di più della vita? Incredibile Questo è un secchio costruito Per durare nel tempo Gente questo è poco Ma sicuro Ok vediamo quindi Di ritornare all'interno della casa Mi domando Quale versione della casa sia C'è anche un generatore di corrente? Sembra essere ancora attivo Contro ogni aspettativa In memoria di The Stanley Parable 2 Il narratore deve essere rimasto qui a lungo Fintanto che alla fine Non deve essere Boh Morto Scomparso Perché Tecnicamente il narratore non è in vita Esiste Perché esiste Stanley Togli Stanley E il narratore Come il gioco ha detto più volte Non ha il benché minimo scopo Signor narratore E qui da qualche parte La recessione di The Stanley Parable 2 Davvero? Invece di espandere i punti di forza Del primo gioco Il sequel si perde in direzioni Che nessuno ha chiesto Un buco della profondità infinita Ma chi se ne frega Dove sono i nuovi finali? E quelle chicche di The Stanley Parable 1 Come la linea dell'avventura? No Qui abbiamo una piatta side quest Per raccogliere i collezionabili E persino quella deviazione Sembra incompleta Se raccogli tutte le statuine Non ti viene dato niente Ehm Mi è stato dato più di quanto Mi sarei immaginato Onestamente Continuiamo a seguire il cavo Della Dell'alimentazione Gli sviluppatori di The Stanley Parable Niente spin off Basta Sequel Ma come? Oh mio dio I pulsanti gym 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 Eh così non funzionano purtroppo Alcuni sono rotti Sembra che il narratore Non sia mai riuscito a ripararli Anzi a fixarli A sistemarli Quando The Stanley Parable Uscì nel 2013 Ed ebbe un enorme successo I suoi creatori pensarono Di costruirci sopra Un intero franchise Ma l'accoglienza disastrosa Riservata a The Stanley Parable 2 Sia dai critici Che a livello di vendite Li ha indotti a rivalutare Le loro ambizioni Come si legge In un comunicato stampa Pubblicato oggi È chiaro che i fan Non vogliono degli altri Stanley Parable L'hanno fermato Pensavamo di avere un progetto Per la serie Che i giocatori Avrebbero accolto Con entusiasmo Invece a quanto pare Ci siamo sbagliati Di grosso La dichiarazione Prosegue con la promessa Di preservare L'integrità artistica Del gioco originale E smettere di aggredire I fan con le nostre Visioni creative Sconsiderate e offensive Nel comunicato Le parole ci dispiace Appaiono più di 25 volte Ma no Ma poveri Stavano cercando Di fare del proprio meglio Anche se questa era Un'opera effettivamente Del narratore No no Dicono tutti Jim Maronne sono dovunque Narratore Potevo almeno fixare Oh maronne Le statuine Ce ne sono altre Vediamo un po' Se il contatore va avanti Eravamo A 24 Quindi dovrebbe essere La 25 Ah no Eravamo a 18 Così A random pure Statuine di Stanley Ah no Siamo arrivati a 25 Paradossalmente Uiii Narratore Lei si trova qua in fondo Oh Oh Siamo ritornati Nell'ufficio Vediamo un po' C'è un computer qua dietro Non ho le cose Accendere tuttavia Oh ok Ha funzionato Secchio Sparisci Che devo fare Il piccolo hacker Ciao di nuovo Oh è ritornato Il tizio iniziale È bello Vederti Ma è terribile sapere Che non ci sarà mai Un altro The Stanley Parable Hai letto Cosa hanno detto Gli sviluppatori Per esservare L'integrità Del franchise Che assurdità The Stanley Parable Non è sacro Non dobbiamo Proteggerlo Al diavolo L'eredità Creiamo altri Stanley Parable Finché non esplode Il sole Buttiamo questo titolo Per terra Trasciniamolo Nel fango Sporchiamolo E se la gente Non piace Chi se ne frega Vedi Era quello Il problema Del narratore Lui era ossessionato Da quello che pensava La gente Del suo lavoro Non fare il suo errore Non aggrapparti All'eredità Lasciala bruciare Non è difficile Anzi ti faccio vedere Insieme faremo The Stanley Parable 3 È semplice Dobbiamo solo cambiare Il numero Nella schermata del titolo Ci serve anche Un sottotitolo Davvero stupido Per il gioco Qualcosa di chiassoso E pacchiano Ma sì Dai Vai Prova a combinare Delle parole a caso Per creare un nuovo titolo Per il nostro gioco The Stanley Parable 3 Il formaggio Terrificante Mi piace Mi piace Ti mette un'ansia assurda E una puzza di formaggio scaduto The Stanley Parable 3 Il formaggio Terrificante È assurdo Lo adoro Ogni volta che riavvii il gioco Aumenteremo di uno Il numero del sequel E poi Sceglieremo un nuovo sottotitolo Così The Stanley Parable Non finirà mai E in questo modo Non cambierà niente Del gioco in sé Aggiungere nuovi contenuti Mi sa di fatica Non ce n'è bisogno Sarà sempre lo stesso contenuto Riciclato ogni volta Con una nuova schermata iniziale Che ne dici Procediamo con questo piano? A me piace Ma voglio che anche tu Dica la tua Beh è così che vengono fatti I giochi al giorno d'oggi Purtroppo Bene allora Siamo d'accordo Normalmente no Voi hai detto no È per incito Un nuovo sequel Ogni volta che inizi il gioco E sai una cosa? Visto che hai dato fiducia Alla mia idea Credo di doverti dare Anch'io qualcosa Ho notato che il narratore Non ha mai trovato il modo Di darti l'achievement rotto Vero? Certo che no Non mi aspettavo Che sapesse come fare Ma la cosa mi disturba Aggiustiamolo Ecco fatto Ho riparato la macchina Dell'achievement Ah Quella macchina Che abbiamo trovato di sotto Vi ricordate quella Che si tirava la leva Ma era rotta? Vedi Sono dalla tua parte Siamo sulla stessa barca Manderemo avanti La baracca insieme The Stanley Parable Non può finire Può solo svilupparsi A spirale su se stesso Per sempre Devo continuare a far girare La ruota Io sono pronto E tu? Ah ottimo C'è soltanto un'ultima cosa Che dobbiamo fare Inserisci l'ora attuale Aspetti mi dia Un attimo Sono le 23 e 21 Quindi 11 Non ho mai capito Stazione dell'orologio Non serve a niente È stupida Non ha senso A posto così Grazie Grazie Buon divertimento Con The Stanley Parable Mi prendi in giro? No The Stanley Parable 3 Il formaggio terrificante Con una PNG Di una macchina Così a random Che passa di lato Ok Questa non me l'aspettavo Sarò adesso con voi È un titolo Veramente Atroce Signori Come vi dicevo Le nostre avventure Su The Stanley Parable Purtroppo Giungono al termine Ma ammettiamolo È una serie che è durata Anche più del previsto E che mi ha stupito Ad ogni passo Nei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Altrimenti Non vi lascio scegliere Il sottotitolo Del prossimo videogioco E noi ci vedremo In un prossimo video Ciao 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 c'è